Tu invece non lo sei abbastanza Perché tu ormai sei già morto A quanti mi si parano davanti intenzionati ad uccidermi Io rispondo con la forza dei miei colpi Nessuno di voi sa perché Locuto Shinken venga trasmesso in linea di successione diretta in quanto campo più potente Ora ve ne darò dimostrazione Assimilare il colpo dell'avversario come fosse tuo Tecnica della sacra scuola di Okuto Riflesso dello spirito Sautzer È arrivato il momento di porre fine alla tua grandiosa marcia Tra tutti i punti di pressione del corpo umano ho colpito quello dalla maggior forza distruttiva Ascoltami Sautzer La tua vita avrà termine fra soltanto 3 secondi Vivrai dentro di me Shu della stella della benevolenza Sautzer maledetto Quando avrò finito di te non resterà un capello Non resterà niente di te in questo mondo Tecnica segreta dell'Occuto Shinken Attivazione della distruzione celeste L'attivazione della distruzione celeste colpisce i punti di pressione con lo spirito combattivo senza toccarli La stella del comando è destinata a soccombere La stella della distruzione celeste colpisce i punti di pressione